Nella giornata di ieri domenica 17 novembre intorno alle 16 i carabinieri della compagnia di Urbino assieme ai colleghi delle stazioni di Pian di Meleto e Carpegna a seguito di una estesa attività investigativa sul commercio e la detenzione di stupefacenti hanno eseguito una perquisizione in una abitazione sita in una zona rurale lungo la valata del Foglia scoprendo una serra adibita alla coltivazione di piante di cannabis ed è arrestato quindi un uomo e una donna conviventi di età compresa tra i 40 e i 50 anni incensurati che abitavano nella casa. La serra era stata posizionata nella cantina dell'abitazione di proprietà di uno dei due arrestati allestita con lampade alogene, termometro, temporizzatore, igrometro e concime e tutto l'occorrente per far crescere le piante e dove ne sono state rinvenute 16 di varie altezze a seconda del loro stadio di crescita comprese tra il metro e 70 e i due metri. Le piante e tutto il materiale ritrovato nella serra è stato posto sotto sequestro. I militari inoltre durante la perquisizione hanno rinvenuto nascosta in barattoli di vetro e già suddivisa in dosi pronte allo smercio 700 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento come bilancini di precisione e involucri vari. Dopo l'arresto i due sono comparsi questa mattina davanti al giudice del tribunale di Urbino processati per direttissima. A seguito del loro patteggiamento sono stati condannati a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa.